Nel momento in cui vi parlo, tutte le state giornalistiche, l'opinione pubblica e soprattutto quella online stanno raccontando un fatto di cronaca che è successo qualche giorno fa in un quartiere di Roma e che per le caratteristiche di questa vicenda di cronaca si sta creando molto dibattito anche a livello istituzionale. Di cosa sto parlando? Sto parlando dell'incidente dello scorso 14 giugno 2023 che è avvenuto proprio tra Casal Palocco e Acilia, che ha visto coinvolte due autovetture, una Lamborghini Urus guidata da 5 ragazzi e una Smart 4x4 che è quella che ha subito l'impatto maggiore nella quale viaggiavano una mamma di 29 anni, quindi una mamma molto giovane, accompagnata da due suoi figli di 5 e di 3. Il bambino di 5 anni, Manuel, è stato ucciso dall'impatto mentre la sorellina di 3 anni, assieme alla madre, prima sono state ricoverate d'urgenza in codice rosso e poi la situazione si è stabilizzata. Secondo i resoconti giornalistici, secondo quello di cui si sta parlando dalle varie testate giornalistiche e che stanno cominciando a comporre la situazione, la vicenda ha avuto anche determinati riscontri, del tipo che per esempio sembrerebbe che il ragazzo che stava alla guida di questa Lamborghini era sotto effetto dei cannabinoidi, sembrerebbe anche che il padre di questo bambino di Manuel che ha raggiunto l'incidente si era trovato nella condizione proprio di voler aggredire, quindi è facile pensare per quale motivo, questi ragazzi e così via dicendo. Ma quello che sta diventando al centro del dibattito pubblico è una questione in particolare, cioè sembrerebbe che l'incidente sia stato causato da una distrazione dovuta al fatto che questi ragazzi stavano registrando dei video su YouTube e non era una registrazione estemporanea come può accadere ad ognuno di noi, ma era proprio un progetto diciamo così di registrazione perché questi ragazzi, questi cinque ragazzi fanno parte di un collettivo, di un gruppo che si chiama The Borderline, che è un gruppo di giovani YouTuber proprio di quelle zone che sono piuttosto celebri per fare quelle che vengono chiamate appunto le challenge, cioè questa specie di sfide, in questo caso sfide contro se stessi, ispirate da un canale di videotube americano che si chiama MrBeast. Questa challenge consisteva nel guidare per 50 ore un'automobile, nella fattispecie questa Lamborghini Urus e quindi ovviamente riprendere questa attività e i video poi caricarli all'interno dei canali YouTube e degli spazi social di questo gruppo. Questo è uno dei temi su cui si stanno focalizzando tutte le testate giornalistiche, l'organo di informazione e anche il dibattito a livello istituzionale, per tacere di tutto quello che sta accadendo in rete tra hashtag di diciamo così su Twitter e altri commenti che stanno popolando i video YouTube di questo gruppo di ragazzi. Questo gruppo di ragazzi appunto si chiama The Borderline, sono un gruppo di ragazzi di quella zona, quindi di Casalpalocco, di Aciglia, di queste zone qui, quindi sono noti come appunto dalla comunità locale e sono diciamo così, hanno un canale YouTube molto molto frequentato, circa 600.000 iscritti a questo canale e sono presenti anche su altre piattaforme come Facile Immaginare, su TikTok e su Instagram, anche se al momento in cui vi sto parlando il canale Instagram è stato, mi sembra che sia stato bloccato, cioè nel senso sia stato reso non visibile e solamente gli iscritti al canale possono visualizzarne i contenuti, però questo non so dire se è avvenuto prima o dopo l'incidente. In realtà diciamo così, questa challenge è una specie di challenge perché in realtà loro non stavano sfidando nessuno, era una specie di auto esperimento in cui si provava a vedere se questa attività delle guida delle 50 ore potrebbe essere portata a termine. Non è la prima volta che fanno un video di questo tipo perché fanno una serie di guido demenziali in cui si mettono alla prova con delle, diciamo così, con delle attività più o meno pericolose o più o meno strane, giusto per appunto racimolare visibilità all'interno degli spazi social. Infatti se uno va a vedere il canale YouTube dei Borderline si trovano anche dei video di un tentativo appunto di questa sfida fatta da 50 ore in macchina oppure da 50 ore in Tesla, quindi diciamo così non è la prima volta che fanno un video di questo tipo. Ma non è questo il, diciamo così, la cosa che ha attirato la mia attenzione. Quello che ha tirato la mia attenzione è che la stampa nel raccontare la vicenda ha sviluppato quella che potremmo dire una narrativa che in sociologia si chiama rituale di degradazione. Che cos'è un rituale di degradazione? Il termine è di un sociologo americano degli anni Sessanta, Harold Garfinkel, che mise appunto questo termine per, diciamo così, per studiare, per definire cosa succedeva per interpretare il meccanismo di organizzazione sociale, di dialogo e di costruzione narrativa che avveniva nei tribunali americani. Lui identificò questo concetto, appunto, di rituale di degradazione per dire che quel processo attraverso cui si trasforma un'identità sociale di un individuo che ha una certa posizione sociale in un livello ancora più basso, quindi abbassarlo dal punto di vista della rilevanza sociale. Quindi diciamo così che semplificando potremmo dire che il rituale di degradazione somiglia molto a quello che noi potremmo chiamare un processo di costruzione di un capro espiatorio. Allora, sociologicamente, perché esiste un rituale di degradazione? A che serve un rituale di degradazione? Esistono ovviamente varie interpretazioni, però due sono quelle dominanti. La prima serve per stabilire i confini morali che definisce una società di ciò che è giusto e di ciò che è sbagliato. Quindi è proprio un modo per definire le regole morali. E in secondo luogo l'accettazione di queste regole, quindi l'appartenenza a queste regole. Quindi chi rispetta queste regole fa parte del gruppo sociale, chi invece non rispetta queste regole non fa parte del gruppo sociale. Quindi l'impressione che ho avuto, e magari qualche collega sociologo può criticare o dammi manforti in questo senso, è che la stampa a quasi tutti i livelli sta elaborando questo rituale di degradazione, questo processo di degradazione in cui si insiste pesantemente sul fatto che sono dei giovani ragazzi, che sono dei fanatici di YouTube, dei fanatici dei social, che hanno questo progetto editoriale di costruzione di video online basato su queste strane sfide a cui loro stessi sono chiamati a, diciamo così, svolgere. Ovviamente in questo meccanismo di questo processo di degradazione l'opinione pubblica digitale sta reagendo con diverse sfaccettature. C'è chi dice che non bisogna, diciamo, si punta il dito verso questi ragazzi, che è l'assoluta minoranza, ma la stragrande maggioranza sta esprimendo atteggiamenti che si possono ricondurre, diciamo sì, nei casi più estremi all'odio e all'esercizio di violenza verbale e nei casi meno estremi a compatire queste giovani generazioni che non hanno più valori, che quindi si trovano ad aver fatto questo tipo di meccanismo, di essere coinvolti in questo tipo di tragedia, perché di una tragedia trattasi, per questa strana passione che hanno nei confronti della costruzione di YouTube e dei miei digitali. Allora, come possiamo interpretare questi fatti? Allora, perché questa cosa mi è, diciamo così, ha catturato la mia attenzione? Allora, più tutto cerchiamo di chiarire e di fugare ogni dubbio. Questi ragazzi hanno commesso un crimine gravissimo e hanno trovato la morte un bambino di 5 anni, sono state ferite la madre di 29, è la sorellina di questo bimbo, di questo Manuel di 3 anni ed è necessario che la giustizia faccia il suo corso. Infatti sono stati, mi pare che sono stati denunciati a piedi libero per quanto riguarda la questione del, giustamente, del delitto stradale, che come sapete è una fattispecie che esiste da qualche anno. Quindi questo deve essere assolutamente chiaro e assolutamente evidente. Così come è chiaro ed evidente che questo atto è stato fatto da dei ragazzi immaturi, di quegli atti sciocchi e quelle sciocchezze che vengono fatte da ragazzi che nella fattispecie, mi sembra di aver capito, che hanno poco più di 20 anni. Però quello che, diciamo così, mi ha catturato la mia attenzione, mi ha fatto riflettere, ovviamente sto riflettendo, diciamo sì, sull'onda anche emotiva, che ovviamente da genitore non posso che avere il punto di vista di una famiglia distrutta da questo modo sciocco per aver avuto un incidente. Però c'è qualcosa che non mi torna in questa narrazione. Cioè, perché si è innescato questo meccanismo di degradazione? Perché si è innescato nella stampa, a diversi livelli, ma anche nell'opinione pubblica, questo processo di degradazione, questo rituale di degradazione. Ovviamente è un incidente come ne capitano tanti, è un incidente come potrebbe essere, come potrebbe capitare a chiunque si lasci distrarre durante la guida, è un incidente che può capitare soprattutto per le persone, diciamo così, che non riescono a concentrarsi sulla guida, che è una cosa sempre pericolosa, quindi guardano il telefonino, si lasciano distruttare, così vi dicendo, quindi è un incidente dal punto di vista della dinamica che poteva essere tranquillamente rubricato come un fatto di cronaca. Secondo me però quello che è interessante dal punto di vista sociologico è che il meccanismo di degradazione sta interessando non tanto i ragazzi, o meglio non solo i ragazzi responsabili di questa tragedia, ma in primo luogo c'è, diciamo così, chi è sottoposto a questo rituale di degradazione sono i social, c'è un'insistenza ossessiva sul fatto che fossero degli youtuber e ovviamente questo non è che rende più leggero o meno grave o più grave la vicenda, sono semplicemente dei ragazzi che stavano girando un video, che poi questo video venga messo online e abbia delle visualizzazioni per uno scopo di visibilità è una questione che riguarda semplicemente loro e soprattutto da questo punto di vista semplicemente la legittimità di fare questa attività, in questo caso, nella fattispecie molto molto pericolose che possono coinvolgere, come poi è tragicamente successo, delle persone, delle altre persone. Però il fatto che stessero girando questo video non rendono di per sé l'incidente migliore o peggiore, è un incidente dovuto a una distrazione, come potrebbe appunto essere decapitato a chiunque si lascia distrattere da un telefonino. Quindi il fatto che siano stati distratti dal fatto che giravano questo video con un telefonino e poi presumibilmente sarebbero andati, avrebbero caricato il video nel loro canale YouTube, questo ovviamente non rende l'incidente più grave. Gli dà semplicemente una connotazione molto molto particolare. E questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto, cioè il secondo soggetto di questo processo di degradazione sono i giovani e il digitale. Un sacco di narrazioni stanno cominciando a insistere da vario punto di vista sul fatto che questi giovani hanno più valori, che ormai l'unico modo è quello di esistere, quello di essere visibili anche al costo della loro vita. E quindi sono dei ragazzi che non hanno, sono stupidi diciamo così, che hanno assolutamente privi di maturità e che hanno fatto una cosa di cui se ne pentiranno per tutta la vita. E questo è auto-evidente. Questo ragionamento però, questo tipo di narrazione, è legittima fino a un certo punto. Prima di tutto sono ragazzi di vent'anni, quindi il fatto di essere immaturi e irresponsabili fa parte della loro generazione. Nessuno li sta giustificando, nessuno sta dicendo che poteva capitare. Perché comunque è capitato e sicuramente ci sarà stata la legge, andrà, cercherà di capire quali sono state le motivazioni che hanno provocato l'incidente. Una guida, una distrazione, una guida dovuta al fatto che il guidatore di questa Lamborghini, di questo SUV, era sotto l'effetto di cannabis. Sarà la legge a verificare i fatti e quindi la gravità e quindi le responsabilità della vicenda. Però il prendersela col fatto che sono dei ragazzi che stanno facendo dei video, che si trovano nei social, che lo facevano semplicemente per produrre contenuti da insieme nel canale YouTube, secondo me non ha molto senso. Perché non rende l'incidente peggiore o migliore o lo rende o da una, diciamo così, stende un velo terribile su questa giovane generazione di ventenni. È semplicemente un fatto, cioè il fatto che stavano appunto recitando questi video, invece di farlo per motivi personali come avrebbero fatto altri ragazzi o altre persone anche più adulte e mature, lo stavano trasformati in un progetto territoriale e ovviamente questo ha avuto delle conseguenze e quindi è stato un contenuto che non aveva, era molto pericoloso da produrre in quel modo e quindi un contenuto che intercetta anche l'immaturità di questi ragazzi, ma sono immaturi non in quanto utilizzatori dei social, sono immaturi in quanto ventenni. Che poi questa immaturità si trasli anche sul fatto che resta traccia come restano le tracce di le attività di cyberbullismo o roba di questo tipo, deve mantenerci comunque freddi sul fatto o comunque attenti sul fatto che è necessario che la gestita faccia il suo corso, è necessario che le responsabilità vengano attribuite e che vengano calibrate le pene rispetto alle responsabilità perché, ricordiamolo, è morto un bambino di cinque anni. Ma che questo si trasformi in una narrazione in cui vogliamo degradare, quindi considerare assolutamente peggiore questa vicenda, solo perché di mezzo c'è una ripresa video fatta per un canale editoriale di YouTube, dai contenuti ovviamente questionabili, però è semplicemente un canale video come ce ne sono diversi, in primo luogo. E in secondo luogo apprendersela solo con questi ragazzi cercando di aggravare la situazione solo perché colpevoli di star facendo una ripresa video, secondo me questo non ha molto senso sulla vicenda in sé. Ripeto, nessuno sta giustificando per quanto mi riguarda l'operato di questi ragazzi, hanno fatto una cosa terribile e se ne pentiranno per tutta la vita. Questo però non trasforma automaticamente questi incidenti in un incidente peggiore o migliore di altri. È un incidente dovuto alla distrazione, la distrazione è la procurata, come spesso capita in tutte le distrazioni, ma che questa distrazione, dato che aveva a che fare con la produzione di un contenuto per un canale YouTube, sia peggiore di altre forme di distrazioni, secondo me non aiuta né il dibattito su questi temi né tantomeno quelle che saranno le conseguenze nei confronti di questi ragazzi. Era questo che avevo voglia di condividere perché non c'è bisogno di incrementare la vicenda con altri elementi che oggettivamente finché la legge non farà il suo corso e che quindi sottolineerà che lo comportamento incauto sia stato aggravato dal fatto che stavano producendo un video. In questo momento è semplicemente un modo per prendersela con lo strumento sbagliato, cioè i social, oppure prendersela con le persone che sono state protagoniste, ma non per questo devono essere la loro posizione già grave, deve essere ultimamente aggravata dal fatto che stessero facendo un video. Poi c'è una cosa che a me colpisce molto, tutti stanno parlando dei social, tutti stanno parlando dei video, tutti stanno parlando della componente internet di questa vicenda, ma nessuno che focalizza la sua attenzione sul fatto che questi giovanissimi, immagino in quanto ventenni neopatentati, potessero guidare un SUV dea Lamborghini con quelle enormi cilindrate? Cioè perché ci stiamo concentrando solo sulla questione legata ai social e non per esempio alla questione della pericolosità di omicidio stradale, che ricordo è una fattispecie che esiste da qualche anno ed è proprio legata al fatto che le automobili sono sempre più potenti e sempre più pericolose? Non ho una risposta in questo senso, però che ci sia stato innescato sociologicamente parlando un rituale di degradazione che ha un valore simbolico e sociale e non tanto un valore di cronaca e di percorso della giustizia, secondo me questo è un elemento che ci deve far riflettere.